Ah, benvenuti anche questa sera al Padova Pride Village. È cambiato lo staff del bar rotante. Non ruono, va in giro il bar da solo, va in giro la gente dentro al bar. E sono arrivati gli amici dell'anima, l'anima di via Vicenza qui a Padova. Alberto. Ciao. E Robby. Ciao. In realtà dietro al bancone dell'anima sono i mille dall'altra parte, però siete ancora aperti di là, no? Sì, siamo ancora aperti per un'esempimana. Dopodiché li chiudono. D'asta, via, vacanze. Vedi? Vacanze vere oppure? Vacanze vere. Beh, qua come va allora? Con tutti questi cuoricini a peso dovresti vederlo. Va bene, va bene, siamo qua da due giorni, però ottimo, volevamo esserci. No, ci siamo. Bene, vediamo. Certo, detta così, ci divertiamo anche. Divertiamo. Ma proposte così, che si propone qua all'anima? Ah, quello tocca a Robby, dirlo. Ah, il lascivo di turno? No, no. Ma cosa proponiamo come trinco? Come cosa? Non è vero. Cosa dici? Ma cosa dobbiamo proporre? Ma più forte, dicono dalla regia, che c'è sempre, non dico chi c'è lì dietro. No, ok, dai. Ecco, bravo, puoi sapere. Facciamo sentire nano Alberto. Anche no, anche no. Che ne so. E' a fare che davanti a te voglio di qua ci vorrebbe lo scambello. Anche perché l'anima cosa c'è? Nata Zara. Ci sono anche qua. Ma l'anima è l'anima, nel senso che non siete dei veterani, c'è l'ambiente gay, diciamolo così, prima col velvet, poi. Con l'anima è un gran bel locale dove si può trovare. Assolutamente sì, molto bello. A parte il design della struttura interna, video, DJ set, sempre festa aperto tutte le sere tranne? Tranne lunedì e martedì, quindi dal mercoledì alla domenica. Mentre qui sono... Fino alle due. Fino alle due. Mentre qui saranno fino a sabato? Fino a sabato o sì. Te le fai tutte le serate, tesoro. No, non tutte. Quindi esci con me. Le salto qualcuna. Mi riposo un po'. Bene, ringraziamo l'anima, ci vediamo poi. Grazie a voi ragazzi, buon divertimento. Bacchi. Ciao, ciao ragazzi.